Ormai ci siamo. Fra pochi giorni inizierà il confronto sulla legge finanziaria. Per ora, in materia di stipendi, le notizie però non sono molto buone. La nota di aggiornamento al DEF prevede per il 2019 un aumento della spesa per gli stipendi pubblici pari allo 0,3%. In questa fase quindi non si parla di risorse per i contratti e men che meno di retribuzioni europee. Il documento, approvato dal governo il 30 settembre, farà da cornice alla intera legge finanziaria e parla di dotazioni a favore della scuola pubblica che verranno migliorate anche da un punto di vista infrastrutturale. Più nel dettaglio si dichiara che occorrono politiche dirette a limitare classi troppo affollate e a valorizzare anche economicamente il ruolo dei docenti. Occorre anche, si legge sempre nella nota, potenziare il piano nazionale per l'edilizia scolastica e garantire la gratuità degli asili nido e dei micronidi, ampliandone l'offerta soprattutto nel mezzogiorno. Senza trascurare poi la necessità di sostenere il percorso scolastico degli studenti provenienti da famiglie con redditi medio-bassi e di contrastare dispersione scolastica e bullismo. Oltre a queste dichiarazioni di intenti c'è però anche l'impegno ad adottare due disegni di legge collegati con la manovra finanziaria. Uno recante disposizioni in materia di formazione iniziale e abilitazione del personale docente e un altro in materia di riordino del modello di valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il fatto è che la nota è molto povera di numeri. Proprio oggi, giovedì, il sole 24 ore, basandosi su un dato di carattere generale sull'andamento della spesa, afferma che le risorse destinate alle scuole diminuiranno nei prossimi anni di almeno 3 miliardi. Per la verità c'è anche un passaggio per nulla rassicurante. E' anche molto esplicito. Nel triennio 2020-22 la spesa sui redditi aumenta in media dello 0,6%. L'incidenza sul PIL risulta pertanto in calo dal 9,7% del 2019 al 9,2% del 2022, confermando sostanzialmente le proiezioni del DEF. Se non ci sarà un intervento importante in sede di redazione della legge finanziaria 2020, gli annunci del ministro Fioramonti, aumento a tre cifre per i docenti, rimarranno tali e docenti e ATA dovranno accontentarsi dei pochi spiccioli della indennità di vacanza contrattuale. Il tema, come è facile immaginare, è di grande interesse, quindi noi continueremo ad occuparcene. Seguitici su questo canale, ma anche sul portale della nostra testata www.tecnicadelascuola.it. Leggeteci, ma soprattutto mandateci i vostri commenti e le vostre osservazioni.